Nucleo industriale di Pozzilli, siamo davanti ai cancelli della Unilever. Qui gli operai e gli addetti stanno scioperando la motivazione e il licenziamento nella serata di ieri di un operaio, si tratta di una donna. La causa ha giustificato motivo oggettivo per soppressione di posto di lavoro. Insomma, non c'è più bisogno di quella mansione, di quel lavoro. I sindacati però non ci stanno, ritengono questa misura intimidatoria più che rispondente ad un'effettiva esigenza di contenimento dei costi e di efficienza aziendale. Di fronte a questa scelta dell'azienda è stato naturale indire uno sciopero di otto ore da parte del sindacato. Questa va registrata come la più grande adesione di sciopero che c'è stata in questi 30 anni di Unilever perché questo licenziamento è piovuto a Ciel Sereno, anche se una visaglia di ciò è successa già due anni fa. Perché due anni fa questo stesso nostro collega di lavoro è stato demanzionato e quindi l'azienda ha ricreato un posto di lavoro fatto ad hoc per questo nostro collega configurando a nostro vedere questo disegno per il taglio del posto di lavoro che poi oggi a dire dell'azienda non serve più. Però l'azienda ha omesso di comunicare al sindacato il cambio dell'organigramma lavorativo per cui il sindacato avrebbe potuto demandare ad altra attività lavorativa questo collega. L'azienda quindi per noi ha fatto un licenziamento illegittimo e ciò che è il nostro obiettivo è il reintegro immediato del nostro collega di lavoro. Al momento ci può dare qualche riferimento ai numeri dell'adesione? L'adesione è al 100%. Tutti quanti hanno capito la gravità del gesto e tutti quanti sono preoccupati che questo gesto possa essere solamente intimidatorio per ulteriori tagli che l'azienda potrebbe o vorrebbe attuare nel futuro prossimo. Di fronte a una situazione di questo genere il sindacato e i lavoratori fanno fronte comune. Infatti oggi in Unilever, nello stabilimento di Pozzilli non entra nessuno perché riteniamo questo atto una violenza che va oltre le regole, va oltre la legge e va anche oltre il codice BSNIS Unilever. Dunque la mobilizzazione che durerà per l'intera giornata e non è da escludersi che questo sciopero possa andare avanti ad oltranza.